Intelligenza artificiale e cyberbullismo Eh beh, tema abbastanza scottante soprattutto perché, oddio, le cronache ormai cominciano a raccontare fatti di questo tipo In Spagna 15 ragazzi sono stati condannati a un anno di libertà vigilata per aver prodotto e diffuso immagini deep fake di coetanei nude Quindi, beh, dobbiamo capire di cosa stiamo parlando Questi ragazzi dell'estremadura praticamente senza il consenso delle compagne hanno preso loro delle foto Una ventina di compagne e poi hanno trasformato queste immagini in immagini di nudi Ma com'è possibile una cosa del genere? Allora, nel caso specifico, qui si parla per esempio delle app dei bulli Nel caso specifico è stato utilizzato Bikini Off Bikini Off è uno strumento molto evoluto alla portata di tutti Permette praticamente di comprendere il senso di un'immagine Per esempio le proporzioni del corpo, il colore della pelle O comunque caratteristiche che gli permettono di, a partire da un volto A partire dalla struttura del corpo, di ricostruire un nudo E quindi la possibilità praticamente di togliere i vestiti Un po' era gli occhialini dell'intrepido di tanto tempo fa che sono diventati una realtà E questo si può fare ovviamente su qualsiasi personaggio Anche personaggi pubblici, questo è un esperimento fatto su Elon Musk Non è l'unico Bikini Off, purtroppo ce ne sono altre Io faccio l'esempio di Reface, che è un face swap C'era un film una volta di Nicolas Cage dove si chambiava la faccia, Face Off In questo caso praticamente si può prendere la faccia di chiunque E metterla sul corpo di qualsiasi altra persona È stato fatto con Taylor Swift, ancora per dei nudi e con altri VIP Il problema è che appunto stanno proliferando questo tipo di applicazioni Non ne cito altri per non dare cattive idee L'importante è stare attenti perché adesso purtroppo L'intelligenza artificiale che sta facendo cose meravigliose Anche all'interno della scuola Sta diventando da questo punto di vista una minaccia Ciao da Gianluigi